Quarta giornata del campionato Juniors che ha visto il Ginosa affrontare l'albero bello. La vittoria per 1-0 grazie a Rete di Girardi mette il Ginosa 8 punti in classifica ed è ancora imbattuto in questo campionato. Da sottolineare nel finale di partita il possibile 2-0 sbagliato da comparato che poco prima con un episodio di fair play ha mandato anche la palla a lato. Dalle immagini e dalle parole del mister capiremo meglio com'è andata la partita. Siamo con mister Russo. Mister, oggi una partita non bellissima, però quello che conta erano i tre punti. Beh, oggi sicuramente erano i tre punti. Diciamo che oggi la fortuna ci ha aiutati, visto che mercoledì non ci ha aiutati dopo aver concluso ben 18 volte in porta. Oggi su un calcio piazzato siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Un plazzo va all'albero bello che si è difeso ed è attaccato anche molto bene. Noi eravamo molto stanchi, in quanto molti di questi ragazzi c'è da dire che giocano anche in prima squadra e quindi le energie sono poche. Però dalla prossima settimana con l'arrivo di due o tre nuovi ragazzi ci sarà un po' più di turnover e la squadra andrà molto meglio, ve lo assicuro. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!